Salve, io sono Jacopo Latrofa in Arte per l'Apo ed oggi ti mostrerò come ho reso smart la mia auto mantenendo l'autorad originale tramite l'utilizzo di un tablet. Ci sono diverse possibilità per poter rendere smart un'auto. La più comune è quella di comprare una delle numerose autoradio Android in vendita e sostituirla a quella originale. Però questa soluzione non è adatta a tutte le circostanze. Per prima cosa per averne una con buone prestazioni che dura negli anni bisogna spendere dei 250 euro in su. Poi queste autoradio non sono adatte per tutte le auto. Per esempio nella mia opera del 2007 l'autoradio si trova in basso e quindi sarebbe molto pericolosa e scomoda durante la guida. In più sostituendo l'autoradio originale avrei perso i comandi per poter controllare i vari settaggi dell'auto. Quindi in questo caso l'utilizzo di un tablet è la scelta migliore. Non avendo tablet inutilizzato in casa ne ho acquistato uno nuovo ed ho scelto il nuovo Tab M10 per due motivi. Il primo motivo è perché rispetto agli altri tablet possiede oltre la porta di ricarica dei connettori laterali che permettono di ricaricarlo tramite la sua base di ricarica. In più si può trovare nuovo su Amazon intorno ai 200-250 euro. Però io sono riuscito ad acquistarlo come nuovo a 100 euro sul subito. Adesso passiamo al settaggio del tablet. Per prima cosa ho disabilitato lo spegnimento automatico del display dalle impostazioni. Come launcher ho scelto CarWebGuru. Mentre come alternativa ho installato il launcher di Android Auto. Per collegarlo alle casse ho scelto un trasmettitore FM con una batteria integrata che si ricarica tramite pannello solare. In modo tale da poter avere libera la porta dell'accendi singhary. In più questo trasmettitore funziona sia tramite bluetooth che jack audio. Mentre per poter alimentare la base di ricarica del tablet ho scelto un caricabatterie da auto che possiede una prolunga per poter avere le prese anche nei sedili posteriori. Grazie per aver visto questo video. In descrizione puoi trovare tutti i link relativi ai prodotti. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.